grazie grazie benvenuti a tutti buonasera eh questo è l'ultimo appuntamento di storie di ordinario cervello la straordinaria rassegna cinematografica sulla salute mentale a Roma promossa da L'Umbic Italia su iniziativa del senatore Antonio Guidi qui vicino a me che saluto senatore benvenuto e bentrovato con la partecipazione dello studio Toffoletto De Luca Tamayo e l'adesione della fondazione Santo Versace ente filantropico in qualità di charity partner buonasera senatore Antonio Guidi neuropsichiatra ex ministro alla famiglia vicepresidente commissione straordinaria diritti umani grazie per aver ideato questa lodevole iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del senato della repubblica chiamo qui accanto a me la dottoressa Scilla Chirizzi eh direttore marketing del di L'Umbic Italia e la dottoressa Francesca Natalini responsabile relazioni istituzionali L'Umbic Italia e proprio per mezzo della straordinaria alleanza che ha riunito i mondi delle istituzioni delle aziende della cultura e del no profit che siamo qui oggi per parlare di salute mentale attraverso il racconto cinematografico e lo scambio attivo di conoscenze ed esperienze fa personalità scientifiche di rilievo lascerei ora al senatore la parola per dare il benvenuto a tutti e raccontarci come e perché è nata questa iniziativa ma intanto grazie di essere qui credo che iniziativa ci è riuscita non lo volevo dire io che sono da quelli che l'ha voluta non il capo non esiste il coppia del cervello non c'è cervello ne parlerò dopo questo organo unico nell'universo non esistono galassie non esistono sistemi di atomi la realtà quantistica o relativistica non c'è nulla che ha la stessa potenzialità di un cervello io dico umano ma qualche volta penso anche ad altre creature come i cani che forse intuiscono di più di noi io per ora devo ringraziare le persone che chi mi ha presentato ha citato gli enti aggiungo il ringraziamento al cinema giuro cesare che da tanti decenni mi vede frequentatore sono cambiate un po' le modalità non esistono più barriere quando ero giovane ne parlavo ma me ne fregava un po' camminavo e quindi era un più disattento adesso apprezzo molto l'ariosità gli spazi anche psicologici e il cinema ci ha donato io però non voglio dire di più oggi per me è una giornata di grandissima felicità ma anche di stanchezza perché l'aula del senato ha parato la legge contro gli abusi e le violenze alle donne è un disegno di legge medio piccolo perché i tempi imponevano di fare poche cose molto efficaci però è stato votato all'unanimità di tutti i partiti qualche piccola polemica perché un po' di pepe ci vuole anche nelle coppie figurarsi se non c'è in un parlamento nella camera alta io ho avuto l'onore di fare un intervento di circa 12 minuti e per i masochisti metto a disposizione da domani se mi lasciate l'indirizzo mail devo dire che quando si parla di violenze di genere e anche contro scelte di generi complicati mi ricordo il nazismo mi ricordo le vittime dei lager oggi lager anche perché abbiamo chiuso almeno in parte i manicomi non ci sono più esiste il lager peggiore quello del pregiudizio quello dello stigma e io oggi ho parlato di me contro di me non per trappare qualche applauso forse c'è stato chi lo sa ma perché mi sento molto in colpa di essere maschio almeno credo ma anche di essere disabile diciamo come ti senti in colpa di essere disabile sì perché qualche volta circa una decina di volta al giorno per tutta la mia storia 78 anni magari non volendolo o inconsciamente volendolo ho ricattato le donne che hanno circondato circondano con loro amore la mia vita ho ricattato perché per la mia fragilità magari apparente per il mio bisogno di coccole in più spesso se coccole le odio perché mi fanno sentire una specie di orsetto a cui si danno carezze e bacetti io voglio essere guardato e valutato per quello che sono e quindi questo senso di colpa credo puro me lo porto dietro anche in una serata come questa però devo dire con orgoglio perché cervi ci sono è bello che ci sono vuol dire che ancora apparentemente in parte sono viva ho partecipato a questo disegno di legge approvato all'unanimità si critica tanto la politica ma è un po come la psichiatria la politica la psichiatria non si vedono ma se mancano è come se mancasse l'aria e noi ci sentiamo soffocati viva la vita e andiamo grazie senatore guidi anche per averci dato questa bella notizia allora passiamo immediatamente alla dottoressa scilla chierizzi abbiamo detto che è direttore marketing di lumbec che è la promotrice di questa iniziativa e quindi ci racconti i lumbec del suo grande impegno sociale buonasera a tutti innanzitutto eh grazie per essere venuti qui noi io sono qui rappresentanza di lumbec insieme a francesca natalini che poi eh dopo parlerà anche lei racconterà il nostro impegno lumbec è un'azienda farmaceutica avete visto prima un piccolo video che la introduceva però io vorrei raccontarvi di lumbec per quello che fa oltre i farmaci perché proporre soltanto soluzioni terapeutiche è giusto un piccolo passo vi parlo di alcuni numeri una persona su tre soffre di disturbi neurologici in Italia una persona su quattro soffre di disturbi mentali se ci guardiamo attorno se pensiamo alle nostre famiglie è un qualcosa che ci tocca a tutti in prima persona o per qualcuno che c'è vicino e che amiamo e affrontare queste patologie è una cosa difficile non si può farlo da soli non si può farlo solo con uno strumento quindi sì assolutamente noi cerchiamo di portare innovazione con la ricerca con soluzioni terapeutiche ma questo non basta dobbiamo essere tutti insieme e dobbiamo cercare di portare informazione educazione e per farlo bisogna creare delle partnership che vanno al di là al di là dei soliti interlocutori perché se si parla di neurologia e di psichiatria solo tra gli addetti ai lavori non si arriva da nessuna parte prima il senatore ha detto una cosa bellissima il cervello è un organo spettacolare no è un organo che non si trova in nessun altra in nessun altra situazione è peculiare è meraviglioso è ancora tanto sconosciuto noi diciamo in Lundek che la salute parte dal cervello il cervello è fondamentale e conoscerlo tutti non solo da un punto di vista di ricerca ma conoscerlo proprio anche nella vita comune porta tanta consapevolezza e porta anche un approccio diverso alle patologie ma anche alla salute perché non bisogna preoccuparsi del cervello solo quando è malato preoccupiamocene quando sta bene e cerchiamo di mantenerlo in salute questo è quello che facciamo lo facciamo con tante iniziative quella del cinema qui è una delle tante qui ci soffermiamo soprattutto sulla salute mentale ma noi facciamo tante iniziative nelle scuole facciamo iniziative che vanno al di là e cerchiamo sempre partner nuovi quando incontriamo persone come il senatore guidi che ha una sensibilità enorme è facile poter creare iniziative sempre di valore è ovvio che noi ci impegniamo a farlo in vari in vari settori e per questo le partnership con le istituzioni sono fondamentali grazie mille direi parole chiarissime fare un applauso a Lombeck perché perché ha delle visioni molto molto ampie di cui abbiamo bisogno dottoressa francesca natalini lei invece ci racconterà dell'importanza della collaborazione tra le aziende e le istituzioni che è un lavoro assai complesso e delicato allora buonasera a tutti io mi occupo di relazioni istituzionali quindi parlo e rappresento Lombeck con le istituzioni governo parlamento ministeri e agenzie competenti in materia di salute e quindi di sanità non capita tutti i giorni di partecipare a qualcosa di straordinario e questa è un'iniziativa straordinaria storie di ordinario cervello la prima rassegna cinematografica sulla salute mentale a Roma nasce da una collaborazione prima Scilla ha parlato di partnership nasce da un'energia vitale l'energia vitale di del senatore Antonio Guidi che ho avuto la fortuna di conoscere anni fa quando era sottosegretario alla salute e che ho ritrovato oggi con la stessa determinazione e la stessa energia vitale l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del senato della repubblica ed ha avuto tanti partner e persone vi assicuro fuori dall'ordinario anch'esse che hanno collaborato alla riuscita di questa iniziativa perché vi chiederete voi un'azienda farmaceutica fa un evento assieme al senato della repubblica anche questa è un'accoppiata poco ordinaria se ci pensate straordinaria non lo so lo lasciamo giudicare a voi ma un'azienda da sola Lundbeck si impegna si impegna da sempre a fianco dei pazienti e a fianco delle persone perché le persone per noi sono al centro come diceva Scilla non semplicemente quando sono affette da patologie ma anche prima semplicemente per informarle per divulgare quello che è la salute mentale e del cervello affinché possiamo fornire degli strumenti con cui le persone possano riconoscere eventuali problematiche affrontarle con serenità liberi da pregiudizio e da stigma lo stesso stigma che in parte in piccolo viviamo anche noi aziende farmaceutiche perché spesso gli interlocutori ci considerano portatori esclusivamente del nostro interesse commerciale che è produrre e vendere un farmaco Lundbeck Italia non è ordinaria questo non so se sia straordinaria ma è diversa non oltre a produrre e commercializzare farmaci si impegna affinché ci sia conoscenza consapevolezza e cultura sulle patologie mentali e sui disturbi che afferiscono alla sfera del cervello quindi insieme alle istituzioni oggi il senato della repubblica il senatore Antonio Guidi insieme al mondo scientifico c'è la professoressa Cinzianiolo vedo seduto il professore Alberto Siracusano che ci hanno accompagnato in questo viaggio dove abbiamo unito le voci da soli avremmo fatto qualcosa di bello ma ordinario insieme insieme per la salute mentale sicuramente abbiamo fatto qualcosa di più forse straordinario quindi io ringrazio tutti quelli che ci hanno consentito di arrivare ad oggi e se mi permettete due minuti li rubo per ringraziare l'ufficio stampa del senatore Antonio Guidi Emanuela Felle vieni prenditi l'applauso e l'ufficio comunicazione di Lundra che sta filmando Francesca Bordignon vieni anche tu persone ordinarie e straordinarie che hanno lavorato tantissimo e che hanno contribuito oggi ad essere qui insieme per la salute mentale perché non c'è salute senza salute mentale grazie grazie mille grazie prima di tutto al senatore Antonio Guidi grazie alla dottoressa Chirizzi alla dottoressa Natalini che prego di accomodarsi e prima di entrare nel flu della serata ci tengo a precisare che le bellissime magliette che ognuno di voi ha ricevuto omaggiate da L'Umbecchia Italia presenti nelle borse che avete ricevuto all'ingresso sono state prodotte da officina creativa attraverso il progetto made in carcere officina creativa è una cooperativa sociale non a scopo di lucro che produce manufatti diversamente utili con materiale di recupero confezionati da donne al margine della società detenute alle quali viene offerto un percorso formativo con lo scopo di un definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile made in carcere è un progetto sostenuto dalla fondazione santo versace ente filantropico oggi è l'ultimo appuntamento di questa straordinaria rassegna cinematografica nelle scorse serate abbiamo parlato di salute mentale depressione disagio giovanile identità svelate è il titolo di quest'ultimo appuntamento e abbiamo l'onore di affrontare il tema dell'identità di genere e salute mentale con la professoressa cinzia iuolo che intanto saluto professore ordinario di psichiatria direttore della scuola di specializzazione in psichiatria università di roma tor vergata responsabile uos spdc policlinico tor vergata e vittoria schisano che si accomoda anche qui vicino a noi attrice scrittrice italiana che saluto e ho invitato entrambe ad accomodarvi è un grande onore un grande privilegio avervi iniziamo a raccontare la nostra serata partendo da vittoria vittoria perché è importante ancora trattare queste tematiche e soprattutto una domanda che voglio attaccare anche a a quest'altro inciso l'importanza delle parole perché le parole hanno vanno usate con un significato le parole possono essere macigni le parole portano stigma quindi a te prego ecco buonasera sono davvero molto contenta di essere qui questa sera parlate di identità svelate no e lo guardiamo attraverso questo film che vi farà innamorare e io ho fatto dello svelamento della mia identità una missione di vita uno stile di vita perché ho imparato a vivere senza maschere a dire sempre la verità e ho imparato che la verità è un grande lusso dovremo imparare a mostrarci per quello che siamo noi tutti e a farlo sapendo usare le parole molto spesso le parole fanno male anche quando non ce ne accorgiamo anche quando non è la nostra intenzione spesso accade di sbagliare sbagliano i genitori sbagliano i figli questa cosa diventa un po più pericolosa quando sbagliare la stampa quando sbagliare sono i media perché sono proprio i media stessi che dovrebbero dare alle parole il giusto peso ed educare le persone a fare altrettanto è un argomento di cui ancora bisogna molto parlare mi piacerebbe poter dire il contrario ma non è così perché è importante parlarne è importante perché sentiamo purtroppo tutti i giorni di ragazzine che vengono abusate sessualmente e questo diventa motivo di vanto per i loro compagni che poi pubblicano tutti i suoi social sentiamo di donne uccise sentiamo di ragazzini è capitato la settimana scorsa l'ultima volta un ragazzino di 13 anni che si toglie la vita perché è bullizzato dai propri compagni perché omosessuale siamo in un momento storico sociale in cui siamo tutti un po disorientati in primis i genitori che non riescono a guardare i propri figli ne fanno un progetto e quindi riversano su di loro quello che loro volevano essere non si chiedono se questi figli sono felici non si chiedono cosa vogliono fare e molto spesso diventa un problema un percorso di studi un fidanzato una fidanzata perché i genitori a volte commettono l'errore di pensare a quello che è giusto per se stessi e non per i loro figli la scuola non ha gli strumenti per educare questi ragazzi parliamo tanto di educazione sentimentale in questi giorni e alla scuola non viene data la possibilità di educare allora questi ragazzi dove trovano l'esempio dove trovano le risposte non le trovano a casa non le trovano a scuola li trovano a me sui social e allora ecco che le ragazzine si danno valore in base al numero di like e quindi molto spesso il proprio valore determinato dai centimetri di pelle che scoprono e quindi più mi scopro più like più valgo i ragazzi imparano a fare sesso guardando i porno e quindi la mia compagna più urla più sono bravo e io più sono duro più sono performante e se faccio questa cosa con il mio compagno contro la volontà della ragazza perché così ho visto fare sui social questo fa di me un figo in realtà non è così e lo sappiamo tutti allora ecco che un film un romanzo o un articolo di giornale assumono un'importanza fondamentale quella di educare ed ecco perché storie come quella che vediamo questa sera devono essere raccontate e non devono essere raccontate soltanto a chi condivide questo pensiero ma io invito voi tutti a raccontare a portare questo messaggio alla vostra vicina di casa a vostro figlio al compagno di vostro figlio che non ha questo tipo di sensibilità perché sono quelle le persone che hanno bisogno di ascoltare queste storie e di imparare dalle storie stesse. Grazie Vittoria infatti vi vorrei ricordare che il film che tra breve vedrete è The Danish Girl che è un gioiello della cinematografia è un'intensa storia d'amore di fiducia di bellezza e di ricerca della propria identità che oltrepassa l'ordinario modo di concepire i rapporti e i sentimenti. La riscoperta della propria identità a partire da quella di genere è uno dei temi del film The Danish Girl del regista Tom Hooper che racconta la storia vera dell'artista danese Lili Elbe la prima persona transgender che nel 1930 si sottopose ad un intervento per cambiare sesso. Adesso vorrei passare di nuovo la parola al senatore Guidi che mi piacerebbe rispondesse a questa domanda lei ha 50 anni di carriera e di spalle fortissime in questo ambito. Com'è cambiata professore l'identità di genere e oggi cosa ci dobbiamo aspettare e qual è il punto di arrivo al quale dobbiamo aspirare? Ma io non rispondo facilmente perché come dicevo oggi in Europa un momento molto felice pure intervenendo sul dolore dei dolori quello delle violenze di genere ma mi sento inadeguato perché proprio oltre mezzo secolo di attività importante come tema la politica e la neuropsichiatria mi rendo conto ogni giorno di più che potevo dovevo fare di più. È indubbio che come per altre difficoltà scelte modalità di vita complicate una volta si parlava di scelte di genere nel tranzare come se fosse una malattia. Stavano nei sacri o i miei libri di testo. I genitori, i medici di quartiere, i preti chiedevano allo psichiatra di cercare di guarire la malattia di una scelta in distonia con quella generale di essere maschi o femmine. Non si capiva perché no la bellezza di scelte diverse. Si identificava tutto con la malattia così come, e non è un caso che ne parlo oggi, come le scelte intelligenti per cercare la libertà di tante donne hanno inventato le streghe, hanno esorcizzato questa diversità d'essere donna con la santa, la piccoletta inquisizione. È un po' la stessa cosa che fino a troppo poco tempo fa si pensava di guarire una scelta di libertà, quella di rispondere ai propri sentimenti potenti, di cambiare genere e di vivere pienamente la propria vita. Tutti noi siamo stati complici, soprattutto la medicia di questo scempio che ha creato l'aggare psicologici, stigma, suicidi, non accettazione, disperazione dei genitori per una scelta assolutamente libera come doveva essere. Oggi credo, ma tutta la testimonianza precedente può parlare meglio di me, siamo in una realtà apparentemente diversa. Ma ci si dice una cosa orribile. Noi accettiamo le differenze degli altri. Accettate. Non c'è forma più razzista di dire io ho il potere di dire a te ti accetto. Io non voglio essere accettato per la mia diversità disabile. Io voglio essere rispettato. l'accettazione me la cerco io. Non voglio obbligare nessuno, nemmeno la persona che amo, che stasera ci sta giocando a padre, invece che sta qua e ci ci verrà un improprio, ma non importa. Anche perché lei può giocare a padre, io no, cercherò di imparare, ma la vedo un po' complicata. Non si può accettare nessuno. È una mancanza tuttale di rispetto. Quindi figurarsi se nella differenza nobilissima di genere si può dividere il mondo in due. Quello che accetta è quello che vive l'orrore di essere accettato in una situazione che sembra democrazia, di fatto costruisce nuovi steccati. Se posso permettermi, perché anche oggi ho cercato di parlare del mio senso di colpa, di essere maschio e disabile, sfugliando la mente degli altri. Ma questo perché fa autocritica? Se manco posso permettermi di autocriticare me stesso, mi butto a te, perché tanto non morirò affogato perché sono intossicato. Ecco, io credo che come atto d'amore, non potendo avere un figlio, per troppa differenza d'età, ho partorito con Maria Giovanna un libro bello, Siracusano rappresentato l'altro giorno, giustamente. Io ve lo sottopordo. La piglio lunga, mi chiedo scusa, ma ho dei sassolini che mi devo dire, sennò anche se non cammino, mi fanno male. Nel libro, breve, con belle foto, con i miei figli, persone della mia vita, io ero pure figo, insomma, stavo a mare, a San Benedetto. Beh, dico, non confesso, dico con molta banalità, senza enfasi, e la mia prima esperienza sentimentale e sessuale è stata con un mio amico, maschio. È stata lunga, è stata tenera, non c'è stata violenza, almeno credo di no, perché ne parlo ancora con serenità. Però sapete che è successo? E certi presentatori di libri, che erano entusiasta del mio titolo, con gli occhi di un burattino di legno, io metto Pinocchio dappertutto, mi hanno disdettato la presentazione. Insomma, guidi, vuoi fare tutto. Su anni che fai lo psichiatra, su anni che fai la politica, c'hai tre bellissimi film, c'hai quattro nipoti? Beh, vuoi essere pure omosessuale, ma che, ma dove voglio arrivare? E sono stato, e lo dico con orgoglio, discriminato. Lo dico stasera senza nessuna voglia di fare confessioni, né di fare elogi alla mia scelta. È stata una scelta banale, normale, nella sua singolarità statistica, ma assolutamente rispettabile per me. Non ne sono orgoglioso, non impongo che l'imposizione è terribile. Nessun modello. Dico solo, fateci stare tranquilli, fateci lasciare liberi di amare. Vi vogliamo senza far danni a nessuno. Sto per concludere. quando, sicuramente magari c'erano via da qualche situazione, perché vivo in questo momento, quando ho diventato ministro della famiglia, pure questo ho fatto nella vita, è disabile, è minissimo. Ci ha avuto troppo. vero, vero che ci posso fare. Mi hanno chiesto, ma lei sarebbe d'accordo a permettere alle coppie gay di adottarle? Ma io penso che potenzialmente, in questo senso, lo dico senza enfasi, credo che un bambino, soprattutto, sia vissuto un periodo drammatico di abbandono, di violenza, abbia diritto ad avere i due generi di genitori, ma in ogni caso, quello che deve vincere nei genitori è la voglia di amare questo piccolino, che è il nostro futuro. Un'ultima cosa, e vi chiedo scusa, forse ho fatto una psicoterapia di gruppo. Io mi sono imparato, a voi vi ho gravato, vi chiedo scusa. Io credo, lo chiedo all'Umberg, lo chiedo a me, lo chiedo a voi, lo chiedo a tanti altri che non sono venuti per partecipare, che faremo l'anno prossimo? Il doppio, il triplo. È stato un avvio affascinante, ma difficile. Ci sono state incomprensioni, per fortuna, perché non siamo nella fattoria degli animali, siamo persone che sono orgogliose della propria diversità che cerchiamo di difendere e in questo senso credo che bisogna cambiare i ruoli. Prima di questo, anche io voglio ringraziare il marmella pelle, perché si è presa scaffoni da per tutti, anche quella, è la clac, ma anche tante carezze nell'anima, perché fu nella sua giovane età, posso dirlo, come parlo della mia, un po' antica, ha retto e con orgoglio ha risposto con tanta voglia di vivere. Forse se non c'era lei, e soprattutto ha sopportato una persona insopportabile, che sono io, è arrivata da padel. Che volete fare? Forse poi sta ancora una persona che è alta il doppio di me, un tappo, però è arrivata proprio nel momento giusto. Spero che tu abbia giocato male, perché sono invidioso. Ecco, dicevo, Emanuela ha un peso enorme, devi lavorare con me, e io sono un piccoglione di proporzioni infinite. La ringrazio ufficialmente. Avevo, e la, attenta e faccio dopo, dovevo regalarti la bandana rosa che tengo da parte, non, mi la sono scordata a caso, potrei regalarti questa farfalla, però ci tengo tanto, però vieni qua Jacqueline, vieni, leva sta farfalla e la regaliamo, se no sembra che faccio lo scemo. Una cosa, voglio dirvi, evitando di far vedere come un gigante da cuba mi strozza, ma ho finito. Ecco, io credo, te lo do col cuore, ma quello un po' così artificiale del tessuto. Io credo, e finisco davvero, vi chiedo scusa, che nel prossimo anno bisogna cambiare una cosa. Noi, psichiatri, abbiamo risposto alle vostre domande come spessi. L'anno prossimo mi pillo l'impegno da neuropsichiatra, un altro psichiatra, come Siracusano e un altro, di fare il contrario. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo rispondere a tutte le colpe delle quali ci siamo manchiati e ci manchiamo ancora. Sapete, mio zio, il medico che mi ha liberato, quando ancora sembrava un utancamere, non parlava, non mai muovevo, cioè, e lui disse, lui farà strada, camminerà, parlerà, ma forse troppo. Sapete chi era? Lucio Bini, l'inventore dell'elettroshock con Cerletti. Quindi ho lavorato con Vasaglia sapendo loro che il mio zio, il medico liberatore, era l'inventore di una forma di tortura, mica male. Noi psichiatri, senza sensi di colpa, dobbiamo rispondere in maniera molto seria su quello che stiamo facendo, nonostante la buona volontà, l'abuso di farmaci, soprattutto retarda, che sono un nuovo letto di contenzione, e anche l'abuso del potere che lega il paziente con disturbi psichiatrici allo psicologo, allo psichiatra. In un testo meraviglioso di Cesare Musatti, che Gisela tanti decenni fa si diceva, voi sapete con quanta gioia che lo psichiatra vede il paziente migliorare e addirittura liberarsi, ma non sapete quanto lo psichiatra e lo psicologo soffrono per la mancanza di una persona che nella terapia ha riempito la vita di noi psicologi e psichiatri. Ecco, direi che su questo dovremmo riflettere sulla salute del cervello, autocriticandoci senza stracciarsi le vesti, ma facendo un'operazione verità assolutamente indispensabile. Io vi abbraccio forte, forse non rimarrò tutta la serata perché sono leggermente salto, però vi voglio dire una cosa, chi crede nella salute mentale deve dire, anche se viene sfiorato da mille dubbi, da mille intrighi, da mille dolori invisibili, qualche volta visibili, deve dire a se stesso, nonostante tutto, e con voi stasera viva la vita perché è sempre qualcosa di meraviglioso. L'importante è non essere mai soli. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero senatore. Grazie di cuore. Allora, professoressa Niolu, a lei come viene affrontata questa dinamica in ambito clinico? Buonasera. Allora, domanda difficilissima perché dopo queste, diciamo, come posso dire, storie di vita vissuta che sono sempre molto più interessanti di quello che posso proporre io, io parlo, diciamo, indegnamente dal punto di vista della scienza. Io sono una psichiatra, sono una psichiatra dell'adulto, tra le varie cose di cui mi occupo, mi occupo in generale di psichiatria di genere e me ne occupo da due lati e quindi è da questi lati che parlerò e poi Vittoria mi correggerà se dirò qualcosa di sbagliato perché ci siamo già su questo parlato. Mi raccomando, se uso termini che non sono adeguati, dimmelo, fallo, perché questo è molto importante, soprattutto di fronte a voi, in qualche modo collaborare per prendere sempre più chiaro questo messaggio che ognuno di noi, dal suo punto di vista, sta portando avanti. Allora, da pochi anni, e dicevo, io ne parlerò in una doppia veste, cioè una è quella del professore universitario, quindi del, diciamo, del compito che mi tocca a livello universitario, ma che è stato assegnato dal Ministero solamente da pochi anni, e in questo mi raccordo con quello che diceva il senatore Guidi, dell'educazione alle differenze nelle scuole di ogni grado. E' differenze anche di genere, per cui quindi differenze di religione, differenze di etnia, differenze, tutte le differenze con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. Quindi cominciare a insegnare ai bambini le differenze, che le differenze non significano disuguaglianze, che sono due parole molto diverse, giusto? E che la disuguaglianza è da combattere, mentre invece la differenza è da coltivare, perché dalla differenza deriva la cultura, deriva l'arricchimento, deriva anche l'integrazione naturalmente, ma soprattutto un arricchimento e una, come posso dire, un salto veramente culturale molto importante. Hanno chiesto anche a noi all'università, ovviamente, di fare questo, e abbiamo cominciato a fare i primi corsi, ognuno per la sua materia, di medicina di genere, e quindi ho cominciato ad occuparmi di psichiatria di genere, quindi proprio stamattina ho ottenuto una lezione in facoltà agli studenti di medicina su quello di cui parleremo oggi, perché ho parlato della medicina di genere a 360 gradi, quindi le differenze che esistono nel cervello, le differenze che esistono nella risposta ai farmaci, le differenze che esistono nella presentazione sintomatologica, alcuni generi sono più, come posso dire, a rischio di contrarre alcuni disturbi, altri di altro disturbo. Il problema qual è? Che credo intorno agli anni 90-2000 sia arrivata questa indicazione, chiamiamo, ad occuparci di questo, e chiaramente di che cosa ci occupiamo delle differenze fra maschi e femmine. E quindi ho detto ovviamente siamo arrivati tardi, perché nel momento in cui si è parlato di differenze di genere noi stavamo già in pieno nella gender revolution, quindi noi non abbiamo più di fronte solamente il genere binario, ma parliamo di altro, che è di quello di cui poi si parlerà anche in maniera, devo dire, magistrale nel film. Perché? Perché nel film, e anche in quello che è stato detto da, diciamo, da Vittoria, se ne parla come, si parla di sentimenti. Io dicevo appunto, sono d'accordo sulle definizioni di un film d'amore, di un particolare tipo di amore, considerando che parliamo dei primi anni del secolo scorso, quindi nel 1930, in cui ovviamente questa cosa era assolutamente, come possiamo dire, altro che una malattia, insomma, per questo lo vedremo anche nelle vicissitudini, diciamo, della protagonista. e l'altra parte è nella psichiatria. Allora, qui dobbiamo stare attenti, perché noi come psichiatri non pretendiamo di solamente curare qualcosa, per cui dice, allora se la curo è vero che è una malattia. Noi ci occupiamo di salute mentale, prima di tutto. E la salute mentale è un diritto di tutti, per cui tutti abbiamo diritto a, diciamo, ad avere assistenza, soprattutto in alcuni percorsi che si dimostrano molto difficili. Io, per esempio, che sono molto difficili, e, diciamo, credo che Vittoria anche nel suo libro che poi sarà presentato parlerà di questi percorsi. Quindi noi facciamo un programma di prevenzione del disturbo, perché ovviamente tutti noi siamo soggetti a poter avere un disturbo mentale nel corso della nostra vita. Ci sono dei percorsi che sono più a rischio. Un esempio, cerco di essere molto breve, perché il film è quello che ci interessa. Io mi occupo di psicopatologia perinatale, quindi di quello che può succedere alle donne quando decidono di avere un figlio durante la gravidanza, nel postpartum. Noi ci siamo occupati fino a qualche anno fa solamente di quello che accadeva nel postpartum, perché il disturbo durante la gravidanza non veniva considerato. E anche questa è una forma di stigma. Perché la donna non deve essere curata durante la gravidanza? Perché essere madri è una cosa meravigliosa, stupenda, fantastica, questo senza dubbio, ma questo non è limite anche ci possano essere delle sofferenze. allora noi come medici dobbiamo saperlo perché dobbiamo identificare delle persone che rischiano di avere un percorso in questo caso di gravidanza molto difficile che purtroppo ricade sulle spalle, per meglio dire sul cervello e sul sistema anche diciamo endocrino del feto e che potrebbe diventare domani un paziente di vario tipo, un paziente psichiatrico un paziente diciamo obeso un paziente cioè ci sono tutta una serie di meccanismi che avvengono durante la gravidanza quindi non occuparci né un discrimine. Quello che io voglio dire dal doppio punto di vista noi dobbiamo essere primi cioè oggi si parla di medicina di genere si parla di medicina di precisione si parla dirò ancora di più di one health questo è un termine che adesso si sente molto parlare che in realtà di per sé si riferisce alla salute dell'uomo dell'animale e dell'ambiente quindi tutto insieme noi siamo in un ambiente siamo a contatto con gli animali siamo uomini siamo donne siamo diciamo sesso binario sesso non binario diciamo qualunque cosa dobbiamo vivere insieme e preservare la nostra salute se noi dimentichiamo un pezzo di questo di questo mosaico sicuramente siamo più a rischio di patologia mentale quindi quello che io dico è che la scienza si deve occupare degli uomini delle persone non perché siano pazienti ma anche per evitare che diventino pazienti che anche questo non sarebbe male come come compito ma soprattutto la psicologia si occupa dell'animo delle persone della mente e la mente e io lo dico perché sono una psichiatra e quindi in questo ci credo è l'organo più complicato che noi abbiamo se non funziona la mente non funzioniamo questo noi lo vediamo non funziona nulla ma non perché è un fatto come posso dire magico una favola è proprio perché tutta una serie di ormoni di neurotrasmettitori che vengono secreti a livello cerebrale se non vengono secreti come si deve funzionano male e ci fanno funzionare male io ho detto questo mi fermerei perché credo che stiamo assolutamente sì però vogliamo spiegare la medicina di genere o medicina personalizzata che lei stava molto a cuore adesso diciamo la medicina personalizzata è il nostro target cioè noi non curiamo lo dico in maniera molto semplice non curiamo la malattia curiamo la persona che ha quella malattia quella persona ha una personalità scusate la ripetizione ha un carattere ha una storia personale magari dieci persone che hanno la stessa malattia sono comunque dieci persone diverse quindi noi non possiamo e lì c'è la medicina di precisione proprio non possiamo applicare nello stesso farmaco nella stessa psicoterapia nella stesso nello stesso approccio relazionale perché quello ha il diabete non funziona così perché c'è chi ha il diabete e segue tutte le regole è aderente come si dice alle terapie non solo alla terapia farmacologica ma anche alla ginnastica alla dieta eccetera eccetera c'è quello che non è aderente per niente cioè se noi non lo identifichiamo e gli diamo la stessa cura non abbiamo fatto niente cioè non siamo entrati in relazione con quella persona e per il genere è la stessa cosa e diciamo questo noi dobbiamo abbiamo di fronte una persona che dobbiamo capire nella sua identità l'identità è la prima cosa nello sviluppo di una persona e soprattutto è la prima cosa nella salute mentale assolutamente sì ora prima di lasciare spazio a talk al pubblico io volevo presentarvi il libro di Vittoria Schisano Siamo stelle che brillano Vittoria dove lo possiamo trovare il tuo libro che vi suggerisco di leggere perché è un libro molto intenso oltre ad esserci la sua storia ma soprattutto mi ha colpito perché quando ho sentito per la prima volta al telefono Vittoria le ho detto ma sei felice e lei mi ha detto tantissimo super sì e quindi se vuoi fare ecco un lancio al tuo libro poi lasciamo spazio al pubblico Siamo stelle che brillano è un libro che ho scritto innanzitutto insieme ad Alessio Piccirillo che vedete qui nella seconda copertina che è l'insale che è anche il mio migliore amico ti vuoi far vedere Alessio un attimo grazie è una storia che fa fare bei sogni e tutti abbiamo bisogno di sognare in questo momento storico tutti abbiamo bisogno di un'iniezione di coraggio non solo per sognare ma per avere la forza di realizzare questi sogni è un libro che parla dell'importanza di affermare se stessi parla di amicizia stasera abbiamo parlato molto di salute mentale io credo che alla base di qualunque cura ci sia sempre l'amore perché quando c'è l'amore è sempre un buon punto di partenza quindi i medici dovrebbero come ha detto prima la professoressa meglio di me dovrebbero capire che i pazienti prima di essere tali sono persone e quindi trattarli come tali in questo libro appunto si parla del valore dell'amicizia di quanto sia importante il gruppo i fratelli le sorelle che scegliamo oltre il livello parentale che non solo sono per noi da supporto nell'affermazione della nostra identità e della realizzazione dei nostri sogni ma sono importanti perché ci riconosciamo unici in un gruppo di persone totalmente diverse è un libro che trovate su Amazon vi prego di regalarlo a chi pensate abbia bisogno di sorridere di crederci di non avere paura e di poter dire io sono una stella brillo se qualcuno mi fa sentire sbagliato è una grande stronzata io sono così e va bene così grazie lo proporremo come strena di Natale pubblico ora è il vostro il vostro turno e prego chi vuole iniziare per primo a fare domande ai nostri ospiti li vedo tutti super timidi se non fate domande di cultura generale ma domande più così che anch'io posso rispondere andate pure prego no non era una mano alzata era un occhiale tolto speravo speravo che non fosse l'occhiale ma che fosse una domanda sa che siamo andati troppo lunghi si stanno addormentando non vedono l'ora che ci alziamo andiamo via e a questo punto prego eccola Francesca a te ti aspetta accomodati no è perché così il pubblico ti vede bene dai vieni avevo una domanda per Vittoria ma che secondo me puoi anche rispondere poi la professoressa era appunto durante il tuo il tuo percorso nei momenti magari di maggiore fragilità o sofferenza che cosa ti ha sempre spinto e portato a andare avanti nella tua scelta e a sentirti realizzata un po' forse il ruolo che dicevi anche della famiglia degli amici se puoi magari raccontarcelo e aggacciandomi a questo chiederei anche la professoressa dove appunto una profonda sofferenza che una persona può vivere in questi casi qual è magari il rischio che questa sofferenza poi si trasformi anche in un in un disagio in un disagio mentale quindi qual è il limite questa è la domanda per entrambi grazie ti rispondo guarda al di là della storia personale io credo che a tutti noi sarà capitato di avere un momento in cui ci siamo sentiti sbagliati non ci siamo sentiti al posto giusto non ci siamo sentiti all'altezza ma inadeguati a me è capitato è capitato perché ho un percorso che conoscete me lo porto addosso oggi con grande serenità e con grande consapevolezza ma c'è stato anche un momento in cui la famiglia non era all'altezza perché non capiva perché vittima del pregiudizio io stessa sono stata vittima del pregiudizio e quindi c'è stato un momento in cui mi sono sentita totalmente sbagliata e anche i medici non erano all'altezza perché non sapevano stiamo parlando di 15 anni fa almeno quelli che ho incontrato io come trattare degli argomenti con una persona adulta che sapeva benissimo chi era e dovevano semplicemente aiutare ad allineare e mettere equilibrio lì dove non c'era nel mio caso un aiuto fondamentale è arrivato sicuramente dai viaggi che ho fatto dai libri che ho letto dai film che ho guardato e dagli amici che ho avuto e che ho ancora tutt'oggi io dico sempre che sono una persona molto fortunata ma la mia più grande fortuna sono gli amici se avessi avuto amici diversi avrei avuto una vita diversa perché sono stati loro a accarezzarmi a accarezzare l'anima e a dirmi non sei sola non sei tu quella sbagliata non devi aver paura ma hai soltanto un dovere quello di essere felice è quello di piacere a te stessa quindi con auguro anche a voi gli stessi amici che ho avuto io grazie grazie tantissimo prego professoressa allora sì il limite è quello che c'è di solito per esempio fra un non so una normale tristezza e una depressione tutti passiamo periodi di tristezza anche tremendi però diciamo nelle situazioni normali fisiologiche siamo in grado di superarli e la depressione è qualcosa di diverso cioè la depressione è qualcosa che ti avvolge completamente la mente il corpo l'anima i pensieri che ti annulla il futuro che ti acidifica il passato cioè che ti rende impotente inerme completamente allora diciamo il rischio che diciamo queste situazioni particolari possano andare da semplicemente una situazione di disagio quindi di difficoltà con la propria identità con il diciamo il genere che è stato appunto assegnato alla nascita rispetto a quello che è sperito dalla persona quindi la persona sente profondamente di essere è sicuramente molto rischioso perché comunque è un sentimento di grande disagio quindi però di per sé può avere un'evoluzione positiva ecco per esempio la rete la rete amicale la famiglia le persone intorno sono sicuramente di grande aiuto importante è riconoscere quando il segnale comincia a diventare patologico perché allora lì a quel punto diciamo ci sono rischi non porto numeri però sicuramente ci sono dei rischi di suicidio molto più alto ci sono suicidi compiuti molto più alti ci sono dei dati che riguardano prima e dopo gli interventi chirurgici ma non è quello che a noi interessa però quello che è importante è capire che c'è una differenza quindi lì ci vuole l'attenzione anche delle persone vicine che sappiano cogliere il disagio quando questo diventa e anche che la persona sappia chiedere aiuto perché c'è anche molta autostigmatizzazione c'è chi non va a farsi visitare perché si vergogna e quindi diciamo questo è il messaggio importante bisogna chiedere aiuto questo non lo diciamo a tutti non ci si deve vergognare e non diciamo la sofferenza non è mai una vergogna e anzi bisogna cercare di dirlo e di comunicare questo messaggio il più possibile sicuramente allora grazie alla professoressa Agnolu grazie a Vittoria e gratitudine per il senatore Guidi io vi lascio è stato anche per me Mariolina Palumbo un onore e un privilegio essere qui tutte queste serate buon divertimento buon film al prossimo anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti